Assessore Marco Scaiola, oggi all'Università di Imperia per un evento molto importante. Di che cosa si tratta? Partecipo volentieri, ringrazio per l'invito con fedelizia, ringrazio l'Università di Genova anche per l'organizzazione di questa iniziativa che è un seminario appunto per approfondire il tema importante del bonus 110, uno strumento fondamentale per il territorio. Noi regioni abbiamo più volte ribadito però al governo che questo strumento che è una grande opportunità per il territorio al suo interno delle difficoltà anche tecniche, applicative e quindi una burocrazia un po' troppo eccessiva e che non rende il bonus così applicabile come magari lo si vorrebbe. Ne parleremo oggi con professionisti dei vari settori, un'occasione importante, quindi ottima l'idea degli organizzatori di questo confronto che verrà fatto questo seminario. Un'Università nella quale noi stiamo anche investendo come Regione Liguria perché attraverso la provincia di Imperia con la collaborazione con l'Università stessa, noi ogni anno stiamo dando un contributo finanziario per fare in modo che gli immobili dell'Università vengano mantenuti, riqualificati perché l'Università di Imperia è un punto di riferimento importante per tanti studenti ma non solo perché questa mattina siamo con molti professionisti per confronti che sono costruttivi e utili per il territorio.